Oh, no, oh, oh! Suor Maria Valentina de Los Angeles è la suora rap di Bogotà che si prepara ad accogliere Papa Francesco in Colombia, dove il pontefice arriva il 6 settembre. Questa religiosa sui generis preferisce la strada ai sandali, il canto come strumento di evangelizzazione. Ha superato numerosi concorsi e ora fa parte del gruppo musicale che accompagnerà il soggiorno del Papa in Colombia dal 6 al 10 settembre. È quello che il Papa ci invita a fare, ovvero essere gioiosi e allegri, essere una comunità, toccare i poveri, essere semplici e quale modo migliore di farlo se non con la musica, dice Suor Maria Valentina. 28 anni, la suora rap è diventata famosa lo scorso anno dopo aver partecipato a un concorso televisivo dal titolo a un altro livello. Quello che è fantastico del rap è che resta facilmente in testa e quando c'è la profondità della verità, di Cristo, è ancora più penetrante. Il mio sogno è essere una buona religiosa prima di tutto e poi fare musica. Vorrei arrivare alla gente e far sì che non si innamorino di me ma di Gesù. Andare che la gente, a più che innamorare di me voce, può innamorare di Gesù.